Non ho spiegato bene. As Pope Francis opens the historic world summit of bishops, we are here to appeal to his holiness, to take concrete action, to demonstrate the church's commitment to ending the culture of abuse and its systematic cover-up. ...da questo appuntamento che si sta svolgendo in Vaticano. Grazie. Ora, la domanda è questa. Perché la chiesa dovrebbe gestire la questione pedofilia? La questione pedofilia non è questione di religione, sono crimini. La pedofilia, secondo me e secondo i colleghi, e secondo la logica, va gestita e giudicata dai paesi dove i crimini vengono commessi in base alle leggi e alle regole di quei paesi. Salve a tutti. Per esempio, in Italia la chiesa non impone l'obbligo di denuncia. In Francia sì. Perché lo impone? In Francia e in Italia no. Perché in Italia lo Stato non obbliga i vescovi a denunciare questi casi di abuso. In Francia invece sì. Quindi vediamo che c'è un vuoto legislativo. La questione più ampia e globale di quello che è appunto la problematica. Tale è la dimensione in questo momento. Ora, è vero che la giustizia in Italia non funziona. È anche vero che è necessaria assolutamente una modifica dei patti lateranensi. Perché all'articolo 4.4 dei patti lateranensi i vescovi, a meno che non siano personalmente indagati, possono addirittura rifiutarsi di rispondere alla magistratura. Nel protocollo addizionale paragrafo 2,b la magistratura si impegna a comunicare alla chiesa l'apertura di un fascicolo su un prete. Cioè io praticamente magistrato indago su uno di voi e vi dico guarda che sei indagato così tu hai tutte le possibilità di far sparire testimoni, comprarteli. Ma non dimenticato, c'è la chiesa, la chiesa, la Conferencia, i bishops, i cardinals, i popoli, ci sono banci justice per tutti i veri dei abiti, e questo è un crime. Vici vi Pyronze, li che deserva già in sanità. Si voglia di conferma, sanno vera, sanno vera, sanno vera, sanno vero, they want to start healing as I said earlier nothing will ever make this right nothing I go to bed at night I think about it every time I go into the shower I think about being raped to be part of this delegation from Pennsylvania I'm thankful